Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti e grazie in particolare al professor Silvio Garattini che mette la sua competenza a nostra disposizione e risponderà alle nostre domande su un tema veramente fondamentale. Come comportarci, quali abitudini scegliere per stare bene, per stare in salute e quali evitare per non tirarci addosso problemi che possiamo tirarci addosso. Il professore in realtà non ha bisogno di essere presentato, ho anche visto da come è stato riconosciuto in generale, comunque se ci fosse ancora qualcuno che non lo conosce, è medico, farmacologo, autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, ha dato un contributo importante alla vita pubblica nel nostro paese come membro di una quantità che non riesco neanche a elencare tutti gli organismi, ma tra cui il Comitato il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Consiglio Sanitario Nazionale, il Comitato Nazionale di Bioetica di cui fa parte, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, ha fondato e diretto per molti anni, oggi ne è presidente, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che è sempre stato ed è tuttora un punto riferimento di grandissima autorevolezza per una ricerca scientifica indipendente, sempre fortemente rivolta agli interessi del paziente e caratterizzata da un'importante anche azione di formazione, informazione e divulgazione. perché, per usare proprio le parole che ha usato una volta con me il professore, il professore ritiene che sia proprio dovere di ogni ricercatore spezzare il pane della scienza, con chi non è scienziato. E soprattutto, grazie al Mario Negri, che si sono introdotti in Italia i principi della evidence-based medicine, la medicina basata sulle prove, cioè dire che tutto quello che noi consigliamo nel campo della medicina, qualsiasi consiglio, ma anche qualsiasi farmaco che viene prescritto e qualsiasi azione medica, deve avere alla sua base i risultati di studi scientifici svolti con una metodologia adeguata. Ed è su questa base che noi, quando abbiamo iniziato a occuparci di salute ormai tanti anni fa, noi di altro consumo, che avevamo già il nostro metodo basato sulle prove per le nostre attività, di test comparative e di inchieste, abbiamo, grazie molto all'insegnamento del Mario Negri, potuto appunto adottare questo metodo della medicina anche basata sempre sulle prove per la nostra attività nel campo della salute. Noi oggi abbiamo deciso di lasciare il compito di fare domande al professore a un gruppo di studenti di tante età, di tante scuole, le abbiamo preparate un po' con loro anche in base ai loro interessi. Però prima ancora di dare la parola a queste domande, vorrei che il professore ci aiutasse a capire perché oggi fare informazione corretta ed efficace, su quali sono le abitudini che veramente ci procurano la salute, è così cruciale per ciascuno di noi, ma anche per tutti. Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, sono lieto di essere qui con voi a parlare dei problemi che ci devono interessare. Io credo che una delle cose che dobbiamo tenere presente, e la ragione per cui è importante essere a conoscenza delle buone abitudini di vita, è che non esiste soltanto il diritto alla salute, che è un diritto sacrosanto e presente nella Costituzione del nostro Paese, ma ogni diritto si accompagna dei doveri, e quindi il diritto alla salute si deve accompagnare al dovere di mantenere la salute. Noi abbiamo il dovere di mantenere la nostra salute, prima di tutto nel nostro interesse, perché non c'è dubbio che avere buone abitudini di vita permette di avere una vita migliore, una vita più lunga, e statisticamente una vita con migliori malattie. Vi do un dato fondamentale che è molto importante per capire quali sono le differenze. C'è uno studio australiano fatto su centinaia di migliaia di persone in cui queste persone sono state classificate in base alle loro abitudini di vita. Quindi mettendo al livello uno chi ha tutte le buone abitudini di vita, poi dopo ne parliamo in dettaglio, scopriremo quali sono. E poi ne mettiamo al punto 8 quelli che hanno invece tutte le cattive abitudini di vita. E sono andati a guardare cosa era successo dopo 20 anni. Ora pensate che quelli che avevano buone abitudini di vita, dopo 20 anni avevano una mortalità del 4%. Quelli che avevano, il peggiore è stato, tutte le cattive abitudini di vita, avevano una mortalità del 26%. Questo vi dice la grande differenza che non percepiamo perché nessuno di noi è in grado di fare questo tipo di valutazioni, ma quando vengono fatte ci dicono quanto è importante. E un altro elemento che voglio darvi è noi siamo il paese che ha una delle migliori durate di vita. Noi siamo fra i primi paesi del mondo, le donne vivono più di 85 anni, i maschi più di 81 anni, siamo fra i primi paesi. Però se andiamo a guardare la durata di vita sana andiamo al dodicesimo posto. Perché? Perché abbiamo cattive abitudini di vita e quindi l'ultimo periodo della vita di solito è affetto da malattie, da polipatologie, eccetera, eccetera. Quindi è importante prima di tutto per noi, ma è anche importante per il Servizio Sanitario Nazionale, perché dobbiamo tenere presente che più del 50% delle malattie non piovono dal cielo, ma siamo noi che ce le autoinfliggiamo attraverso le cattive abitudini di vita. Ma facendo questo danneggiamo anche il Servizio Sanitario Nazionale, perché dovrà occuparsi di malattie, spendere soldi per malattie che sono evitabili. E quindi questi soldi, siccome non possono essere infiniti, non saranno a disposizione di coloro che invece ne hanno veramente bisogno e per cui poi alla fine non ci sono risorse sufficienti. Questo credo che sia un po' il nocciolo del problema che purtroppo non è ancora entrato nella nostra cultura. Nella cultura generale c'è ancora molto più uno spirito egoistico, mentre invece dobbiamo acquisire uno spirito di solidarietà. Cioè quello che facciamo e che determina sprechi nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale lede in qualche modo la libertà e i diritti di coloro che potrebbero invece usufruirne. Se, diciamo, riusciremo nel Paese a mantenere questo tipo di atteggiamento e soprattutto a inserirlo nei giovani, questo si dovrebbe insegnare a partire dall'asilo, certamente avremo la sostenibilità di questo Servizio Sanitario Nazionale che può certamente essere migliorato, ma è un bene inestimabile per il nostro Paese. Purtroppo la maggior parte di voi sono giovani e non hanno vissuto quello che c'era prima del Servizio Sanitario Nazionale. Se no, come me, che è un lungo chilometraggio, apprezzerebbero veramente cosa vuol dire oggi il Servizio Sanitario Nazionale. E allora iniziamo a capire quali sono queste abitudini che poi il professore dice abbiamo il dovere, ma è un dovere che poi fa benissimo anche ciascuno di noi, perché chi non preferisce essere sano, chi non preferisce arrivare a una lunga età in buona salute. E quindi abbiamo una prima domanda su un tema che è uno dei temi più importanti e ce la fa Daniela che fa la seconda media all'Istituto Quintino di Buona di Milano. Buongiorno professore. Perché è così importante mangiare tanta frutta e verdura? Questa sembra una domanda semplice, ma invece è una domanda molto complicata. La frutta e la verdura. La frutta e la verdura se facciamo una specie di piramide in cui mettere i consumi, la frutta e la verdura stanno alla base. Cioè sono i prodotti che dobbiamo consumare di più per una buona abitudine di vita. Poi vengono carboidrati complessi e poi vengono le proteine. Carboidrati complessi cioè pane, pasta e riso. Pane, pasta e riso. Possibilmente non raffinati ma invece ancora allo stato grezzo. Poi vengono le proteine animali e poi vengono i grassi. Quindi questa è un po' la piramide. Man mano che si va su sempre di meno. Allora, perché diciamo che la frutta e la verdura sono importanti? Intanto per i dati sperimentali che sono stati raccolti. Cioè facendo questo tipo di studi in cui si va a vedere qual è l'incidenza di malattie in chi consuma molti vegetali, frutta e verdura, rispetto a chi ne consuma pochi, vediamo che quelli che ne consumano di più hanno meno malattie, hanno meno tumori, hanno meno effetti avversi cardiocircolatori e così via. Quindi non c'è dubbio, perché ormai gli studi sono tantissimi, non c'è dubbio che questo è un dato di fatto. Poi ci possiamo chiedere il perché. Il perché anche qui è un perché fatto di tante ragioni. Per esempio, contengono fibre, i vegetali e la frutta, e quindi aiutano i movimenti gastrointestinali. avendo fibre, assorbono sostanze che possono essere dannose. E poi i vegetali contengono molte sostanze antiossidanti e quindi evitano dei tipi di ossidazione che possono cambiare il nostro DNA, quindi i nostri geni, possono cambiare le proteine, possono cambiare i costituenti del nostro organismo. Quindi sono tutte queste le ragioni per cui, e ce ne sono tante altre, molto più complesse, per cui, diciamo, è importante mangiare quantità. Ci possiamo chiedere quanto. Il quanto è molto difficile. Si dice in generale che dovremmo mangiare cinque porzioni di vegetali, fra frutta e verdura, al giorno. cinque porzioni vuol dire una certa quantità, non certamente un pisello o una lenticchia, ma una certa quantità di cinque qualità diverse, il che non è difficile se pensiamo che possiamo mangiare una banana, un po' di uva, un po' di insalata e così via. Insomma, quindi non è così difficile avere questo. Certo, bisogna che ci siano anche degli incentivi, cioè bisogna non soltanto avere l'idea che fa bene, ma bisogna anche che gli interventi diciamo pubblici del governo, delle autorità, siano interventi che tendono a facilitare l'impiego di frutta e verdura. Come? Per esempio aiutando la pubblicità. Oggi si fa pubblicità soltanto delle cose che fanno male e non si fa pubblicità per mangiare, per dire mangiate frutta e verdura perché fa bene. È un tipo di pubblicità che non c'è, si dovrebbe fare. Non soltanto, ma il governo dovrebbe aiutare gli agricoltori che invece di produrre carne producono invece frutta e verdura. E questo lo potrebbero fare in vari modi, sia diciamo diminuendo le tasse oppure si potrebbe fare in questi giorni, come avrete visto dai giornali, si sta discutendo se tenere l'IVA in modo differente, cioè si parla di abbassare l'IVA per chi paga con le carte di credito e di alzarla per chi paga in contanti. Potremmo fare la stessa cosa, cioè diminuire l'IVA di frutta e verdura portandola magari a zero e invece aumentare l'IVA dei prodotti che non sono salutari e quindi devono essere in qualche modo scoraggiati. Il prezzo è certamente un modo molto importante perché siccome la maggioranza della gente non ha risorse infinite è chiaro che il prezzo ha una grande influenza su quello che scegliamo per mangiare. Passiamo un'altra non ho capito magari teniamo le domande magari per la fine magari lasciamo procedere i ragazzi teniamo passiamo alla domanda di Petra che anche lei fa la seconda media in quintino di Buona Milano. È vero che stare troppo tempo su smartphone e pc fa male e perché? Se è vero che passare troppo tempo su smartphone e computer fa male e perché? Anche questa è una buona domanda prima di tutto c'è un problema che è poco conosciuto e cioè che per usare il telefonino chiamiamolo così smart telephone bisogna stare in una certa posizione è vero? Di solito questa è la posizione una posizione china che implicazioni ha questo? Allora pensate che noi abbiamo tutta la nostra struttura vertebrale che è fatta per cosa? È fatta per sostenere l'organismo ma la parte superiore è fatta per sostenere la testa va bene? Quindi per sostenere un certo peso normalmente si calcola che la nostra testa pesi almeno 5 kg allora quando noi stiamo in posizione eretta la nostra testa va benissimo cioè le vertebre sono fatte per sostenere 5 kg di peso se noi appena spostiamo di 5 gradi che è pochissimo il nostro queste vertebre devono sostenere molto di più i muscoli si devono un po' diciamo contrarre e passiamo a 8 kg se andiamo a 20 gradi che di nuovo non è tantissimo è così il nostro le nostre vertebre i nostri muscoli si trovano a dover sostenere invece 10 kg e nella posizione in cui ci si trova normalmente per digitare arriviamo a un peso di 28 kg ecco noi non ci rendiamo conto di questo ma poi quando i giovani saranno più vecchi pagheranno questa situazione perché avranno tutti i mal di schiena tutte le diciamo i danni della colonna cerebrale che poi è molto difficile curare perché diciamo sono problemi strutturali che si vengono a realizzare questo diciamo dal punto di vista fisico e va tenuto presente perché è qualcosa che si dice molto poco è poco conosciuto e invece fa parte delle buone abitudini di vita non stare troppo tempo in questa situazione quindi fa male guardare il telefonino se uno è ossessionato dal fatto che appena arriva un impulso lo debba subito guardare se uno invece spende molto meno tempo e le mette tutti insieme diciamo già ha un grande vantaggio da questo punto di vista poi dopo invece ci sono tanti altri svantaggi di cui bisogna renderci conto con questo nessuno vuole negare la grande importanza che ha questo strumento perché questo strumento è estremamente utile non c'è dubbio però va usato bene perché che cosa determina intanto se noi continuiamo a guardare lì perdiamo molto i contatti con la gente perdiamo molto i contatti con i nostri compagni quanto è diminuita il colloquio lo vediamo anche diciamo per esempio nei ristoranti nei ristoranti una volta la gente parlava animatamente oggi vedete la maggior parte anche le coppie che uno di fronte all'altra sono lì che ognuno digita il suo telefonino il colloquio è molto limitato questo ha poi una grande influenza anche sul nostro cervello perché il nostro cervello si adatta ai comportamenti che abbiamo quindi il cervello svilupperà molto di più tutte le funzioni che hanno a che fare con questo tipo di nuova forma di informazione quindi con la digitalizzazione e non svilupperà invece tutte le aree che hanno a che fare con il contatto con le relazioni pubbliche con la capacità di comprendersi di capirsi eccetera eccetera ecco queste sono le cose che dobbiamo tenere presenti e tenerle presenti cosa vuol dire vuol dire certamente non rinunciare a qualcosa di estremamente utile ma fare in modo che sia fatto in modo ragionevole come tutte le altre funzioni pensate che dalle statistiche che sono state raccolte si calcola che molti credo il 58% qualcosa del genere certamente la maggioranza dei giovani spende 7-8 ore al giorno al telefono e questo certamente non è il modo ideale per spendere il proprio tempo quindi tutto va bene ma facciamolo sempre con ragionevolezza e con intelligenza ecco a questo forse possiamo agganciare la domanda di Leo Leo voce alta e parlare piano quando un'abitudine diventa una dipendenza e come distinguiamo un'abitudine da una dipendenza dannosa qualche campanello d'allarme quando iniziamo a capire che un'abitudine si sta trasformando in una dipendenza quindi diventando dannosa quali sono i campanelli d'allarme per vedere che scivoliamo in una dipendenza sì prima di tutto bisognerebbe non cominciare alcune cose mai cioè non pensiamo ai campanelli d'allarme cominciamo a dire che non bisogna cominciare quindi se uno comincia per esempio a fumare è chiaro che non comincia male quindi in qualche modo si mette nella condizione di avere dei campanelli d'allarme che qualche volta sono evidenti ma tante volte non sono evidenti fin quando non sono campanelli d'allarme molto gravi cioè quindi per esempio se uno fuma evidentemente avrà ogni tanto un po' di bronchite avrà qualche però non è quella la ragione per cui deve smettere di fumare la ragione per cui non si deve cominciare a fumare è perché bisogna avere l'idea e l'informazione che questo tipo di comportamento crea dipendenza cioè in fondo si diventa schiavi di qualcosa e io credo che l'aspirazione di qualsiasi persona è quella di essere libero quindi non stiamo facendo contro uno dei nostri istinti fondamentali che è la libertà quindi e questo si applica a tutte le cose si può parlare di fumo pensate che il 12% di tutte le morti sono 600.000 all'anno in Italia è dovuto al fumo quindi 72.000 morti che accettiamo come se fosse una cosa ineluttabile cosa vuol dire 72.000 morti vuol dire è come se sparisse ogni anno una città di provincia pensate se sparisse contemporaneamente in un posto che possiamo identificare ma tutti diciamo si occuperebbero del problema ma il Parlamento dovrebbe lavorare in continuità per risolvere il problema di 72.000 morti all'anno siccome avvengono in tanti posti d'Italia nessuno se ne cura però sono 72.000 morti all'anno l'alcol è la stessa cosa sono di meno sono 20.000 morti però sono sempre 20.000 morti all'anno e così via insomma cioè noi non dobbiamo metterci nella condizione di avere una diciamo dei consumi visto che qui siamo altro consumo dei consumi che portano alla dipendenza perché mettiamoci in mente che la dipendenza è schiavitù credo che nessuno di noi voglia essere schiavo di qualcosa io penso che questi concetti purtroppo non ci vengono dati durante l'educazione e dovrebbe si dovrebbe cominciare a fare questo dall'asilo cioè il concetto di libertà non è un concetto soltanto di espressione delle proprie idee ma è anche un concetto di non essere schiavi di abitudini però chi insegna a scuola questo io credo che non ci sia questo tipo di insegnamento dovrebbe essere invece la base dell'insegnamento perché è certamente molto più importante di sapere il greco sapere che non bisogna diventare schiavi di abitudini che sono dannose per la nostra salute perché poi anche se sappiamo il greco non lo possiamo utilizzare se siamo malati quindi diciamo dobbiamo tenere presente la scala dei valori e la nostra scuola purtroppo non tiene presente la scala dei valori potremmo fare tanti altri esempi ma o non lo fa abbastanza ascoltiamo anche le altre domande allora sentiamo un piccolo gruppo di domande di Lucia che fa il Politecnico di Milano io volevo chiedere riguardo al consumo di marijuana è vero che anche un consumo occasionale di marijuana può creare dei gravi problemi alla salute anche a lungo termine e rispetto all'utilizzo dell'alcol come mai la marijuana è illegale mentre l'alcol è accettato è un motivo con basi scientifiche su risvolti sulla salute oppure più un fattore culturale inoltre cosa dobbiamo pensare della cannabis che hanno appunto adesso reso legale con il basso contenuto di THC è sicuro per la salute o ci sono anche dei problemi anche per quello sì anche questa è una domanda molto importante cioè l'impiego della cannabis intanto bisogna dire che occorre distinguere quello che succede nel cervello di un adulto rispetto a un cervello di adolescente un cervello di adolescente è in sviluppo non è completato le aree diciamo della corteccia frontale che sono le aree cognitive sono ancora in via di sviluppo mentre invece sono predominanti le aree più di tipo emotivo che sono caratteristiche dell'adolescenza quindi il cervello durante fino a 21 22 anni insomma è un cervello che si sta modellando cioè che si sta costruendo quindi dobbiamo stare attenti perché qualsiasi sostanza chimica e in particolare le sostanze chimiche di cui parliamo c'è la droga sono degli attentati al modellamento diciamo questa parola alla costruzione del nostro cervello e tante volte non abbiamo una sensazione immediata ma poi adesso vi dirò che cosa succede poi nel tempo quindi parliamo di quello che succede nell'adolescenza perché è quello che ci interessa di più intanto il concetto cosa vuol dire cannabis cannabis vuol dire una la presenza di sostanze chimiche ben identificate come il tetraidro cannabinolo che hanno un effetto molto importante sul nostro cervello intanto determinano una deficienza di memoria una difficoltà di apprendimento e di fatti i ragazzi che fumano diciamo cannabis hanno un minor rendimento a scuola questi sono dei dati ormai abbastanza diciamo sicuri e sufficienti fatti in varie condizioni in varie popolazioni studentesche per cui insomma c'è questo tipo di problema c'è un altro aspetto è quello che succede invece a lunga scadenza a lunga scadenza per esempio e questo è uno studio fatto in gemelli per cui insomma abbiamo una analoga base genetica da cui partire se prendiamo se studiamo gemelli in cui ce n'è uno che ha fatto uso di cannabis e un altro invece che non l'ha fatto uso andiamo a vedere quando hanno 25 anni troviamo che quelli che hanno fatto uso di cannabis hanno 6 volte in più la dipendenza da cocaina perché una delle caratteristiche di chi utilizza una droga è quella poi di passare da una droga all'altra quindi questo è un dato che diciamo statistico come pure ci sono altri dati che sempre in gemelli indicano lo stesso tipo di problema cioè prendiamo invece che una droga insieme delle droghe anche in questo caso ci sono dei dati che indicano che chi ha assunto cannabis ha 6 volte più probabilità di usare una droga rispetto a chi invece non l'ha assunta quindi non c'è dubbio poi bisogna tenere presente che la cannabis di cui parlavamo una volta era una cannabis che conteneva dal 4 al 5% di all'inizio anche meno intorno al 3% di tetraidrocannabinolo oggi abbiamo dei preparati di cannabis che contengono il 28% di tetraidrocannabinolo quindi quello che pensavamo fosse l'effetto oggi è molto moltiplicato proprio perché abbiamo questi preparati purtroppo abbiamo avuto in Italia una legge improvvida una legge a cui non si è pensato cioè che una legge per rilanciare l'impiego della cannabis la cannabis viene utilizzata per tante attività che non hanno niente a che fare con la droga per i tessili per diciamo essere inserita in certi tipi di plastica cioè ci sono tante attività e questo diciamo la legge ha permesso sostanzialmente che si aprissero questi 2000 negozi che abbiamo in Italia con il nome Cannabis Light e questa è una è uno dei peggiori servizi che abbiamo fatto ai giovani perché abbiamo dato l'impressione che tanto la cannabis è light leggera e quindi va benissimo apriamo negozi vendiamo tutto che contiene cannabis e non si sa perché e poi non è detto che perché diciamo la scusa che è stata presa è che io ho avuto per esempio un'audizione in Parlamento su questo problema e ho capito che i parlamentari non hanno nessuna idea precisa di cosa succede perché una mi ha detto ma c'è scritto che è proibito l'uso umano ho capito che c'è scritto che è proibito ma è sicura che perché è proibito tutti rispettino la proibizione insomma non credo che si possa essere così ingenui da pensare che e poi è vero che non può contenere più dello 0,8% di tetraido cannabinolo ma se uno usa parecchie inflorescenze che contengono il 0,8% può arrivare a delle dosi che sono invece molto significative e certamente mi sembra che raggiunga quasi l'umorismo il fatto di dire e di scrivere anche nella legge che questi negozi possono vendere anche le piante di cannabis ma per i collezionisti cioè io non so quanti collezionisti di cannabis ci siano in Italia ma immagino che la collezione venga utilizzata per qualcos'altro visto che stiamo parlando di sigarette Maya mi sembra che tu avessi una domanda su un tipo di sigarette particolari sì buongiorno allora le volevo chiedere cosa dobbiamo pensare delle sigarette elettroniche e come mai vengono pubblicizzate a differenza delle sigarette classiche e si davvero aiutano a smettere di fumare come ci viene detto e che cosa pensa dei giovani che invece si avvicinano al fumo attraverso queste le sigarette elettroniche intanto è difficile classificarle come tali perché sono tanti tipi diversi e non c'è nessun controllo su come devono essere fatte certamente possono essere classificate come un male minore perché nelle sigarette elettroniche non c'è la presenza dei prodotti della combustione quindi c'è una presenza molto minore dei prodotti cancerogeni e questo diciamo sarebbe un vantaggio però la sigaretta elettronica contiene nicotina e la nicotina è la base attraverso cui si instaura la dipendenza quindi chi utilizza la sigaretta elettronica non è privo della dipendenza che si stabilisce fumando le sigarette perché il principio che determina dipendenza è lo stesso inoltre con la sigaretta elettronica si assume molta più nicotina di quanta non si assuma con le sigarette perché si continua ad aspirare e non c'è nessun controllo in queste fiale che teoricamente contengono nicotina ma nessuno controlla la nicotina è un farmaco è un prodotto estremamente pericoloso pensate che se un bambino bevesse anche soltanto qualche goccia di quello che è contenuto in una di queste fiale avrebbe seri problemi di salute quindi insomma sono fiale pericolose materiale pericoloso che nessuno controlla inoltre noi sappiamo che la nicotina è quella che è responsabile delle malattie cardiovascolari indotte dalle sigarette quindi tutta la parte del danno cardiovascolare non viene eliminata dall'impiego della sigaretta elettronica ma rimane anzi semmai aumenta perché vi ho detto che si assume molta più nicotina ancora un'altra cosa da dire è che di fatto uno potrebbe dire benissimo però se riusciamo a far diminuire quelli che fumano tanto bene noi abbiamo fatto un'indagine su mille persone e abbiamo visto che in realtà sono molti di più quelli che cominciano con la sigaretta elettronica rispetto a quelli che smettono di fumare con la sigaretta elettronica la fascia di mezzo è una fascia che fa tutte e due cioè fuma e tiene anche la sigaretta elettronica allora noi dobbiamo certamente combattere l'uso della sigaretta elettronica anche perché vengono fuori alcuni problemi che nessuno di noi prevedeva credo che molti hanno letto che negli Stati Uniti ci sono molti casi di mortalità che attribuiscono alla sigaretta elettronica sono dovute ai componenti alle goccioline che si aspirano con la sigaretta elettronica e che hanno un effetto lesivo sulle cellule polmonari questo effetto lesivo può condurre a gravi malattie polmonari e addirittura alla mortalità ci sono casi di mortalità dovuti alla sigaretta elettronica quindi diciamo è chiaro che dovremmo essere molto più attenti e molto più capaci di dare informazioni perché in fondo a chi produce il tabacco a queste multinazionali non è che interessi se uno fuma le sigarette se uno fuma quelle sigarette che non abbiamo nominato le Iquos che diciamo non bruciano ma hanno soltanto riscaldamento o se uno usa la sigaretta elettronica quello che conta è di mantenere la gente dipendente da nicotina perché che poi usi uno quello quell'altro le multinazionali comperano le ditte e quindi sono ben felici che ci sia tanta gente che è dipendente da nicotina perché qualcosa alla fine compreranno è per quello che molti di noi ritengono che si debba fare una grande pubblicità anche su questo aspetto e soprattutto bisogna aumentare il prezzo del tabacco perché questo è un modo noi sappiamo che aumentando il prezzo del tabacco del 10% diminuisce del 4% la percentuale dei fumatori e teniamo presente che in Italia il prezzo delle sigarette è molto basso è la metà di quello che si paga in Inghilterra quindi c'è lo spazio per aumentare purché questa tassa sia una tassa di scopo cioè sia utilizzata per fare ricerca e per aumentare le conoscenze dei giovani perché a noi interessa soprattutto che i giovani non inizino a fumare perché se non cominciano da giovani è molto difficile che poi lo facciano quando sono adulti o addirittura anziani abbiamo parlato di un po' di abitudini negative torniamo a una positiva Petra con la tua seconda domanda è vero che l'attività fisica serve è molto importante per la salute certamente l'attività fisica è molto importante per la nostra salute anche qui però dobbiamo cercare di dare qualche informazione su cosa vuol dire attività fisica quella che serve la nostra salute attività fisica che serve la nostra salute non è andare in palestra e buttarsi a terra di fatica rimanendo due ore oppure andare nel weekend a sciare senza allenamento spaccandosi una gamba o facendo altri tipi di attività sportiva quello che è attività fisica importante per la nostra salute sono sostanzialmente fra i 20 e i 30 minuti al giorno di attività fisica che deve avere la caratteristica di farci fare un po' di fatica questo è quello che conta cioè dobbiamo fare in modo che l'attività fisica sia ci faccia battere un po' di più il cuore e ci faccia un po' avere difficoltà respiratorie quella è l'attività fisica che è importante per la nostra salute quindi camminare di buon passo andare in bicicletta bisogna camminare di buon passo ma soprattutto c'è un modo che è diciamo infallibile fare le scale fare le scale più volte al giorno è uno dei modi per fare l'esercizio fisico che è molto importante per la nostra salute perché è importante beh è importante perché l'esercizio fisico facendo aumentare i battiti cardiaci migliora e aumenta la nostra circolazione ma poi quello che è importante è che l'esercizio fisico di questo tipo libera dai nostri vasi sanguigni dei principi che sono che chiamiamo con una parola difficile dei principi fibrinolitici ma che cosa fanno questi sono dei principi che fanno liquefare i piccoli coaguli che si formano nei capillari e che quando si formano nel cervello fanno morire i neuroni che stanno vicini a questi capillari quindi noi con l'esercizio fisico rendiamo meno probabile la formazione di questi piccoli coaguli e quindi preserviamo le nostre cellule nervose tant'è vero qualcuno direbbe ma cosa c'entra l'esercizio fisico con il sistema nervoso centrale c'entra moltissimo perché chi fa un buon esercizio fisico ha meno probabilità di diventare demente quando è anziano questi sono dei dati che sono diciamo di nuovo dei dati sicuri perché sono fatti su grandi popolazioni statisticamente parlando è più difficile avere l'alzheimer se uno fa un buon esercizio fisico durante tutto il periodo della sua vita quindi anche oltre cardiovascolare proprio anche l'alzheimer certo ma perché noi diciamo tendiamo a usare una parola ma insomma la demenza è un sintomo che dipende da tantissimi fattori ma fondamentalmente c'è sempre una parte vascolare perché diciamo la vascolarizzazione è quella che permette ai nostri neuroni di funzionare bene quindi ci sono sempre molti fattori alcuni cardiovascolari alcuni invece che chiamiamo neurodegenerativi che sono dovuti alle caratteristiche dei nostri neuroni ma è importante sapere questo che l'esercizio fisico è utile per la parte cardiovascolare questo lo sanno tutti ma è molto utile anche per la parte del sistema nervoso centrale quindi fate le scale a piedi siamo purtroppo il tempo è come sempre tiranno mi piacebbe lasciare fare una domanda a un giovane medico che è qui visto il ruolo importante dei medici nell'aiutare buonasera io vorrei chiederle qual è il ruolo dei medici e in particolare dei medici di base nel aiutare i propri pazienti ad avere uno stile di vita sano e soprattutto quali strumenti possono essere utilizzati per aiutare i medici nello svolgere questo ruolo nei confronti dei pazienti una domanda complessa ci sono due aspetti noi sappiamo che purtroppo in generale i medici non rappresentano un buon esempio da questo punto di vista per quanto riguarda gli stili di vita perché ci sono molti medici che fumano e questo naturalmente non è un grande esempio che si dà poi alla popolazione ci sono molti medici obesi cioè ci sono molti medici che non fanno quello che predicano e questo dovrebbe essere secondo me che non si vaccinano che fanno tante altre cose allora questo dovrebbe essere una delle regole fondamentali un medico non ha soltanto la funzione di curare o di aiutare i propri pazienti ma rappresenta inevitabilmente anche un esempio e se i pazienti vedono il medico che fa ciò che non si dovrebbe fare evidentemente non possono essere bene influenzati da questo il secondo punto è che i medici in linea generale questo lo sappiamo dalle statistiche che abbiamo a disposizione non si occupano molto di prevenzione perché sono presi io penso che una delle metodologie con cui giudicare l'efficacia di un medico di medicina generale per esempio dovrebbe essere quello di valutare ogni certo periodo di tempo tu avevi fra i tuoi mille tanti pazienti che hai cittadini che si rivolgono a te avevi hai un certo periodo di tempo 200 fumatori dopo tre anni quanti ne hai fatti smettere? tu avevi 50 che bevevano troppo quanti sei riuscito a correggerne? tu avevi tot che non faceva esercizio fisico che era obeso che non dormiva a sufficienza eccetera eccetera che non faceva lavoro intellettuale quanti ne hai cambiati? perché questa è una delle funzioni fondamentali il medico deve aver presente che è molto più importante evitare una malattia che riuscire a curare una malattia anche perché non sempre poi si riesce a curare quindi questo secondo me è una delle cose che manca nella cultura medica ma manca perché manca all'università cioè l'educazione universitaria non dà questo tipo di informazioni e anche il servizio sanitario nazionale non ha come impostazione quella di aiutare la prevenzione che è la cosa fondamentale prevenzione ormai è diventata una parola obsoleta come se non esistesse cosa bisogna fare per i medici per i medici bisogna aiutarli cioè bisogna sostenerli bisogna dare delle informazioni bisogna che ci sia una informazione indipendente bisogna fare in modo che il medico non sia vittima del mercato e quindi della propaganda del mercato bisogna fare in modo che non sia l'industria farmaceutica a decidere che cosa deve fare un medico ma che siano le informazioni di tipo indipendente che lo aiutano però quelle che voi del Mario Negri sì quello che cerchiamo di fare ma quello che è importante è che ci deve essere una una specie di circolo vizuoso cioè come mai gli ordini dei medici non chiedono l'informazione indipendente io ho mai visto ho visto l'ordine dei medici chiedere tante cose non ho mai visto chiedere un'informazione indipendente non ho mai visto chiedere di governare il mercato della medicina perché aspetta anche a noi cambiare la situazione quindi dobbiamo chiedere che cambi la situazione dobbiamo col nostro esempio aiutarla a cambiare e dobbiamo fare in modo che la popolazione percepisca la medicina non come una dispensatrice di interventi ma come una modalità per aiutare tutti avere più salute allora il tempo alla nostra disposizione purtroppo è finito però io non voglio lasciare il professore prima che andiamo tutti a casa con due consigli per stare meglio nei prossimi anni un'abitudine da prendere e un'abitudine da lasciare un'abitudine da prendere ve l'ho già detto fate tante volte le scale questo è un buon esercizio fisico anche se quelli che costruiscono gli ascensori non saranno contenti ma insomma facciamo il nostro esercizio fisico tutti i giorni perché questo è molto importante l'abitudine da lasciare è quella di perché non ne abbiamo parlato lo dico di stare molto attenti all'alimentazione l'alimentazione è importantissima perché mangiamo tutti i giorni e più volte al giorno quindi siamo fondamentalmente quello che mangiamo quindi dobbiamo stare molto attenti ci sono mille regole ci sono che rappresentano anche questo è il mercato ci sono due principi fondamentali da osservare molto semplici che tutti possono capire la prima è la moderazione cioè il cibo non deve non dobbiamo vivere per mangiare ma dobbiamo mangiare per vivere cioè mangiare quello che è indispensabile perché quella che chiamiamo in termini tecnici la contrazione calorica cioè mangiare un po' di meno di quello che si vorrebbe è una modalità per migliorare la nostra vita e per allungare la durata di vita anche su questo ormai ci sono tanti dati scientifici che ci permettono di fare questo tipo di affermazioni e l'altra cosa è la grande varietà cioè non mangiamo sempre la stessa cosa abbiamo già parlato prima dell'importanza della frutta e della verdura anche qui ci sono delle regole non mangiamo troppa carne perché questa non è utile porta grassi porta grassi saturi le regole dicono che non si dovrebbe mangiare più di 40 grammi al giorno che vuol dire in una settimana una piccola quantità e oggi mangiare tante cose differenti è una modalità per avere tutto quello che ci serve in termini di micro e di macro nutrienti non abbiamo bisogno degli integratori alimentari l'anno scorso abbiamo speso 3 miliardi e 700 milioni per comprare integratori alimentari che hanno certamente fatto bene ma solo quelli che li vendono quindi non abbiamo questo ultimissima cosa vi dico che è importante avere una varietà non soltanto per avere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno ma anche per avere meno inquinamento cioè perché tutti i cibi contengono più o meno delle sostanze inquinanti quindi se noi mangiamo sempre la stessa cosa aumentiamo la quantità di inquinante nel nostro organismo di quell'inquinante di quel cibo mangiamo il tonno c'è del mercurio quindi se mangiamo solo tonno aumentiamo il mercurio se mangiamo un po' di tutto ne prendiamo tanti di inquinanti ma ha delle concentrazioni che sono piccole e che quindi non influenzano il nostro organismo perciò varietà e moderazione per quanto riguarda gli alimenti allora grazie professore grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti